Luce tra i frammenti è un cortometraggio che apre una nuova narrazione sui tumori del sangue e che ha l'obiettivo di diffondere consapevolezza e fiducia nel futuro. E la storia di Mira, che affronta una diagnosi di tumore, è il percorso che la porta alla guarigione. Un viaggio complesso e ricco di emozioni, che deve affrontare chi è colpito da un tumore del sangue, che racconta i tumori e le paure con cui deve convivere ogni giorno, ma anche la fiducia nella ricerca e nelle terapie. La parola informazione è la prima determinante per una corretta adesione alle terapie. Informare e conoscere, e quindi conoscere da parte dei pazienti, significa non avere paura da un lato, quindi non avere paura di ciò che non si conosce, dall'altro lato prenderne consapevolezza e quindi creare quel famoso patto di alleanza tra medico e paziente che aiuta sicuramente il percorso di cura. Il cortometraggio racconta il percorso che affronta un paziente dal momento della diagnosi fino al trattamento e alla remissione della malattia, ottenuta grazie alle terapie a base di CAR-T, una nuova terapia innovativa grazie alla quale si riaccende la speranza. Le CAR-T-Sell hanno rivoluzionato completamente la prognosi dei pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B che non rispondono alla terapia standard, dando il 50% di possibilità di guarigione che era assolutamente inimmaginabile fino al 2019. Realizzato dagli studenti del triennio in cinema e animazione di Naba, nuova accademia di belle arti, promosso da Gilead Science, il cortometraggio ha il patrocinio di AIL, associazione italiana contro le leucemie, e la lampada di Aladino ETS. Gilead è presente con le terapie cellulari in Italia da 5 anni, con programmi di supporto ai pazienti e anche con attività come quella di oggi di sensibilizzazione, perché sensibilizzare la comunità a quello che è il vissuto del paziente fa in modo che ci sia un'accoglienza del paziente che si sente meno solo nel suo percorso di terapia, quindi un approccio a tutto tondo per il benessere del paziente.